Attesa una vera e propria stangata per i consumatori di ritorno dalle vacanze estive. Secondo il Codacons, che ha calcolato le spese che i cittadini dovranno affrontare nelle prossime settimane, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe, la spesa media sarà pari a 700 euro annui in più a famiglia tra settembre e novembre. In primis, gli italiani dovranno fare i conti con le spese di natura alimentare. L'incremento medio dei prezzi è stimato sul 10% su base annua. Tempi duri anche per quanto riguarda il rifornimento alla pompa di benzina. Sempre secondo il Codacons, i listini del gasolio sono più cari del 16% rispetto al 2021, mentre la benzina costa il 6% in più. Per effettuare un pieno, un automobilista è costretto a spendere circa 87 euro. Resta da comprendere inoltre se il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato o meno il 20 settembre. Dopo quella data, il prezzo potrebbe salire oltre i 2 euro e 5 centesimi al litro. Ulteriore capitolo poi quello relativo all'impennata delle bollette. Sono attesi rincari vertiginosi a partire dal mese di ottobre. Secondo il Codacons, si va verso un 15% in più per la luce e un 20% in più per il gas. Sono quasi 1000 euro in più a famiglia. Da non sottovalutare nemmeno i rincari legati al ritorno dei giovani in classe. In base alle prime rilevazioni del Codacons, i prezzi del corredo, diari, libri, astucci e quaderni registrano incrementi medi del 7% in più rispetto al 2021. Da aggiungere anche la spesa da affrontare per i libri di testo, per un totale che potrebbe raggiungere i 1300 euro per singolo studente. Guai non solo per le famiglie ma anche per le imprese. A causa dell'inflazione e del caro energia sono a rischio solo nell'isola 6.500 imprese, oltre a circa 19.000 posti di lavoro. È un vero disastro. Così il presidente regionale della Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti, dopo che la federazione ha inviato una lettera ai nove prefetti siciliani e al commissario straordinario dello Stato. I governi regionali e nazionali devono immediatamente intraprendere azioni a sostegno delle attività economiche e produttive, dicono gli industriali siciliani.